Hello everyone, this is Mark again. How are you today? By the time you finish watching this English lesson, you will have learned an adverb of time. In questa lezione vi insegnerò ad usare l'adverbio di tempo by the time. By the time è un adverbio di tempo che significa prima che e viene usato nel presente, nel passato e nel futuro. Guardiamo l'esempio introduttivo che ho dato. By the time you finish watching this English lesson, you will have learned how to use an adverb of time. Questo è un esempio di una frase futura, di un'azione futura. E usiamo by the time più il presente semplice. Nella seconda parte usiamo il futuro perfetto, the future perfect. Però io potrei anche aver detto al passato o al presente, usando diverse formule. Al presente si usa by the time plus present simple. And nella seconda parte usiamo il present perfect. By the time I arrive home, she has gone away. Possiamo dire una frase al passato e quindi vediamo la formula prima. E by the time più passato semplice, past simple. E poi la seconda più importante parte della frase è al passato perfetto. Past perfect. Quindi vediamo un esempio. By the time I arrived home, she had already gone away. Guardiamo la frase introduttiva nella timeline. Come potete notare, la seconda parte è nel primo posto, è prima nella riga di tempo. E la prima parte è nel secondo posto, perché by the time vuol dire prima. Allora, let's recap now. Ho detto che by the time vuol dire prima che, ed è un adverbio di tempo. Si usa nel presente, nel passato e nel futuro. Ok? Adesso ho una domanda per voi. What will you have studied by the time you finish university? Potete scrivere la vostra risposta o i vostri commenti sotto questo video. Spero che abbiate una bella giornata. Hope you have a nice day. And I see you next time. Please don't forget to share it. Ok? Non dimenticarvi di condividere il video, se vi è piaciuto. Ok? Vi ringrazio. See you next time. Bye bye. Ciao 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 ciao